Avrebbe adescato 8 bambine su Facebook, inviando il loro video in cui si spogliava e compiva atti osceni. Nei confronti del 38enne barese Michele Alambrese è cominciata l'udienza preliminare per i reati di corruzione di minorenne, pornografia minorile e adescamento di minori. L'imputato, presente in aula, ha chiesto di essere processato con il rito abbreviato ed il processo inizierà il prossimo 10 marzo del 2017, dinanzi al gruppo del Tribunale di Bari Rosa Anna De Palo. All'udienza si è costituita parte civile una delle vittime. L'uomo è in carcere per questi fatti dal 10 dicembre del 2015, stando alle indagini della Polizia Postale coordinate dal Pubblico Ministero Simona Filoni. Il 38enne, dopo aver adescato le minorenne sui social network attraverso profili sempre diversi e con falsa identità, avrebbe inviato alle vittime, tutte di età compresa tra i 10 e i 14 anni, molti filmati che loro riproducevano in atti osceni. I fatti contestati fanno riferimento al periodo marzo-settembre 2015. Su disposizione della magistratura barese, l'uomo è stato sottoposto nei mesi scorsi ad una perquisizione domiciliare nell'ambito della quale sono stati sequestrati in materiale informatico, su cui sono ancora in corsa accettamenti, e oggetti utilizzati nei video inviati alle minorenne. In un caso, dopo essersi presentato con il nome Checco ed aver dichiarato di avere 16 anni e mezzo, avrebbe convinto un adolescente ad inviare sue foto intime. Oltre alle accuse rivolte dalle sette bambine identificate dalla procura di Bari come vittime del 38enne, al processo è stato riunito un altro fascicolo proveniente dalla procura di Santa Maria Capoavetere per atti sessuali nei confronti di una minorenne campana. Grazie a tutti.